Aldo in partenza, ecco la mia linea ferroviaria, guardate display Tirano, bello il treno in partenza l'8 aprile 2022, prendo il mio solito treno che anche da giovane prendevo sempre questo treno, Aldo in partenza. Sono felice, sono felice, la mia vita ha uno scopo, devo capire tutti i più piccoli paesi della Valtellina e soprattutto la Valtellina Basso, ma guardate che bella la stazione centrale di Milano, è una delle più grandi di Europa, ecco il viandante, il girovago delle stazioni, dove vado? Al primo o secondo scompartimento perché poi a Monza sale un mio amico, ecco, ecco Aldo in partenza, che bella giornata, il sole, questo è il periodo più bello per viaggiare che non c'è l'aria condizionata, ma guardate com'è bella la stazione centrale, ve lo ripeto ancora, ecco, ecco che Aldo, oggi va, dopo Colico, a vedere la diga di Delebio, tornazza località e poi vado anche a Dorio a portare pacco dopo, pacco giorno dopo giorno per la mia casa dell'eremita a Dorio, ok, ce l'ho fatta, bella la vita, in aprile si può vivere, si può vivere bene con questo clima adatto alle mie facoltà di viaggiare, saluto, saluto gli amici, saluto l'Antoni, saluto Luigi, saluto tutti, anche quelli che mi ascoltano, quelli che mi ascoltano, ciao, a dopo, tra poco salgo in treno.